Industria e il Sindaco Italia con la coda di paglia rilasce interviste fuori luogo a TV nazionali. Con non poco stupore dopo mesi di silenzio in merito allo stato di crisi della zona industriale, ho appreso che il Sindaco Italia ha rilasciato una dichiarazione sull'argomento ai microfoni di Sky e TG24. Come dichiarato dallo stesso Sindaco ai microfoni del telegiornale, considerate l'importanza rappresentata dal Polo Industriale sia per la nostra provincia, importanza testimoniata dal fatto che il 51% del PIL è frutto del Polo Industriale, che per l'intera nazione, visto che costituisce l'8% del PIL nazionale, incredulo del fatto, mi sarei aspettato che piuttosto che rilasciare interviste fuori tempo e con l'unico obiettivo di stare sotto la luce dei riflettori delle telecamere nazionali in qualità di Sindaco del Capologo, si fosse fatto promotore di una battaglia a difesa del Polo, coinvolgendo non solo gli altri sindaci del territorio interessato, i quali al contrario sono mesi che intervengono sull'argomento, ma anche i deputati della nostra provincia. Tra questi ultimi, in primi, il senonevole Prestigiacomo, che da subito ha combattuto e ancora combattuto, insieme ad altri deputati del centro-destra locale, per la salvaguardia e la sopravvivenza del Polo Industriale e di conseguenza di tutti i posti di lavoro adesso collegati. Ritengo quindi che rilasciare adesso l'intervista sull'argomento, sollecitando il Governo di intervenire sia un esercizio stucchevole e impregnato di quel populismo che il Sindaco in diverse occasioni ha dichiarato di voler combattere. Ciò detto esorta il Sindaco a rilasciare meno interviste e a concentrare il suo tempo e le sue energie nell'amministrare la città. Lo dichiara Gianmarco Vaccarisi, commissario cittadino di Forza Italia.